Il passato industriale di Milano Un maestoso carro ponte, una locomotiva FS 830 di produzione Breda, un caro lingottiera della Falche e il museo dell'industria del lavoro. Tra la locomotiva e il carro ferroviario è posizionata una parete in acciaio Corten, denominata il Muro Parlante, che sussurra i principali evenimenti relativi all'industrializzazione di Sesto San Giovanni. Tanti ricordi e tanti successi, come la storia gloriosa dei veicoli commerciali Renault, un know-how riconosciuto nel mondo. Oggi la gamma di veicoli commerciali Renault si rinnova completamente e lo fa con ingegno, lanciando due nuovi modelli, Kangoo Van e Express Van. Il nuovo Kangoo Van rivoluziona ancora una volta il modo di lavorare degli operatori professionali. Questa furgonetta innovativa è compagna ideale per le flotte, gli artigiani e i commercianti esigenti che cercano un veicolo personalizzato, dotato delle più recenti tecnologie. Carico di ingegno, nuovo Kangoo Van, semplifica la vita degli operatori professionali, regalando grandi innovazioni, come la funzione Open Sesamé di Renault, un'offerta unica sul mercato che consente un accesso laterale inedito e operazioni di carico e di scarico facilitate. Particolarmente pratica in centro città, Open Sesamé di Renault regala l'accesso laterale più ampio del mercato, sulla fiancata destra e, come per magia, il montante centrale è eliminato. All'interno troviamo l'Easy Inside Rack, un vero e proprio portafacchi interno con cui trasportare oggetti lunghi fino a 2,5 metri, il volume interno arriva fino a 3,9 metri cubi, il miglior livello di carico della categoria e offre 60 litri di divani portaoggetti utili con l'ingegnoso e pratico nuovo cassetto Renault Easy Life. E visto che il mercato si sta sempre più elettrificando, arriverà ad inizio 2022 anche la versione elettrica, nuovo Kangoo Van E-Tech Electric. Disponibile in due versioni, il nuovo Kangoo Van E-Tech Electric avrà una batteria a gli ioni di litio da 44 kWh che regalerà un'autonomia di 265 km in ciclo WLTP. Con un'infrastruttura di ricarica rapida da 75 kW, il veicolo recupera 150 km di autonomia in soli 30 minuti. Nuovo Kangoo Van sarà disponibile in Italia da giugno. L'altra grande novità è data dalla nuova furgonetta Express Van, pratica ed efficace. È pensata soprattutto per le aziende alla ricerca del miglior rapporto prezzo-prestazione. Design esterno dinamico e robusto, dimensioni incomparabili sul mercato per facilitare le operazioni di carico. Un abitacolo moderno con tanti vani portaoggetti, sedili confortevoli e resistenti. Questa è la carta d'identità di nuovo Express Van. Tanti punti di forza, tra cui il sistema Easy Life a bordo, con circa 48 litri di vani portaoggetti, il miglior volume della categoria. La porta scorrevale laterale è davvero ampia, 716 mm, che facilita le operazioni di carico, offrendo la miglior lunghezza del pianale di carico. 1,91 metri è il più grande volume di carico, fino a 3,7 metri cubi del mercato. E per essere al passo con i tempi, tanta connettività, in più caricatore e induzione, fino a tre prese USB e quattro prese a 12 Volt. Sistema multimediale Easy Link, con display da 8 pollici, smartphone replication e navigazione. Il nuovo Express Van sarà commercializzato in Italia a partire da maggio. Nuovi veicoli commerciali Renault, un carico di ingegno per semplificare la vita degli operatori professionali. Nuovi veicoli commerciali Renault, un carico di ingegno per semplificare la vita degli operatori Carico di ingegno per semplificare la vita degli operatori. Grazie.